A giorni l'ex vice sindaco della città di Agropoli Elvira Serra costituirà un comitato civico a comunicarlo in un'intervista alla consigliera comunale Gisela Botticchio. Rispetterò ogni scelta politica, dichiara la Botticchio, le battaglie vanno fatte negli scanni del consiglio comunale. Elvira Serra ha trovato subito solidarietà in me, io come consigliere di opposizione e come politica estesa agli interessi dei cittadini, perché Elvira Serra come vice sindaco in un anno e mezzo si è sentita stretta, che cosa vuol dire? Che non riusciva a manifestare il suo pensiero politico, cioè l'articolo 21 della Costituzione dice abbiamo libero pensiero e libera parola, cosa che lei non ha avuto e questa è veramente una violazione. Detto questo Elvira Serra è normale, tutti l'avvicinano, con me c'è una collaborazione di cittadini, io ho chiesto a Elvira Serra, ho detto affacciati alla Lega. Lei sai cosa mi ha risposto? Ha detto Gisella, per il momento sto da cittadina, creerà sicuramente a giorni un comitato civico dove io starò a fianco Elvira Serra, poi in futuro la dottoressa Serra prenderà una decisione di guardarsi intorno, penso che sia orientata al centro-centro-destra, la collaborazione resta, lì io rispetto le scelte degli altri, cioè stai con me, siamo amici, non condividi la mia linea politica, siamo nemici e questi sono loro, ma io non sono loro, io sono una persona che rispetto tutti, tutte le scelte, fuori dagli scanni andiamo al bar e parliamo, la battaglia politica si fa negli scanni del Consiglio Comunale perché l'unica opportunità che abbiamo è combattere lì.